amici youtubers ciao benvenuti in questo nuovo video no non sono milli anche se vedete il titolo ciao sono milli oggi parlo io infatti in questo video oggi parlerà milli per voi vi deve dire qualcosina ma prima vai con la sigla eccoci tornati nel video passo la mia mille va mille amici sono mille sono un po triste piove non si può uscire ma vi volevo dir una cosa non parlare romano state zitto che io parlo come me pare capito rompi scatole parla come vuoi devo riuscire avvisare che domani nel mio secondo compleanno c'è sta qualcuno che mi fa fare auguri grazie vedo pure la zampetta chi è mille e mostro video è finito basta mi sono stufata chiudo e te dico di sì buonanotte vabbè o mili è così parla poco ma incisiva bene come avete capito infatti domani è il secondo anno di vita di mille fatevi vostri auguri nei commenti a questo video grazie a tutti per la visione visualizzate ancora il mio canale iscrivetevi con campanella attiva commentate lasciate like un abbraccio dal vostro max grazie a tutti a tutti veramente tutti gli iscritti a tutto youtube in generale va bene ciao al vostro max e grazie ancora un abbraccio ciao ciao